La partita ormai da qualche settimana è una campagna per informare i cittadini, mettere in guardia i cittadini dalle bufale sul web e anche le campagne antivaccinazione. Come mai si è arrivati a voler pubblicare questa campagna? Ormai si sa che 8 cittadini su 10 in Italia cercano notizie sulla propria salute sul web. Il fatto è che mentre su internet pareva che fosse un servizio democratico oppure dove si volessero anche trovare parecchie notizie, questo in parte è vero, però sul web si trovano anche tante porcherie e tante cose non vere. In più molte persone non sapendo come comportarsi hanno di grossi problemi. Le dico solo un fatto, prima di tutto bisogna saper decodificare i messaggi che si cercano. Poi soprattutto il web è ammorbato da tante fake news, da tante notizie false, messe proprio ad arte da chi vuole speculare sul dolore e sulle malattie della gente. Le pensi a quante medicine, a quanti farmaci più o meno tali che poi non si sa cosa contengono, vengono venduti sul web. Una campagna di affissioni, di frasi anche un po' forti per risvegliare l'animo dei cittadini. Sì, è vero, ci è stato un po' anche fatto notare questo, però non è che noi ci siamo inventati questo tipo di campagna, ci siamo rivolti a dei giornalisti, a dei professionisti della comunicazione. Questo è il risultato, ci hanno detto che se volevamo colpire era questo il messaggio da dare. Però vede, il messaggio non è del tutto campato in aereo, non è del tutto negativo, perché accanto a queste tombe con la croce c'è anche chiedete sempre al medico, perché il medico è l'unico in grado di poter decodificare i messaggi. Ecco, dopo questa campagna invece cosa ne pensate della medicina alternativa? Vede, ci si è resi conto che molti milioni di persone in Europa, nel mondo, usano queste medicine complementari. Ora parlo di medicine che abbiano una certa base, non parlo del metodo Hammer o di stamina o di altre cose che sono dimostrate delle vere buffale per cui hanno creato tanti problemi. Queste medicine complementari noi abbiamo detto è bene che siano i medici ad usarle, perché ormai questi farmaci o pseudofarmaci si trovano un pochettino dappertutto, nei supermercati, su internet e la gente li compra così a tratti da una certa aurea che si sono formate questo tipo di medicine alternativa. Che siano affidate al medico perché? Perché il medico che per deontologia deve seguire le pratiche migliori basate sull'evidenza scientifica, è evidente che quando vede che queste terapie non hanno nessuna efficacia, non può, non può distogliere il proprio paziente da cure che siano basate sull'evidenza scientifica, perché porterebbero dei gravi danni. L'effetto placebo è ben conosciuto da moltissimo tempo. Io posso fare anche un giro attorno al letto del malato come facevano gli antichi stregoni dicendo frasi sconnesse e il malato mi può dire anche che sta meglio, però questo è un atto del medico, ma non è un atto medico. Allora, siccome ci sono tante malattie psicosomatiche, se una persona dice di star bene con certe sostanze, con certe cose, però quando si tratta di una malattia è bene rivolgersi a un medico e non abbandonare cure che siano basate sull'evidenza scientifica. Il consiglio che si può sempre dare ai cittadini, anche a chi sta guardando questa intervista, è di rivolgersi al proprio medico? Sempre e in ogni caso. Il medico è un professionista che ha fatto decenni di studi. È chiaro che la scienza non è sempre in progress, perché cambiano le malattie, cambia il nostro organismo, ci sono mutazioni genetiche, la scienza è sempre in progresso. Fidatevi del vostro medico, noi stiamo anche facendo una grossa opera e campagna di sensibilizzazione affinché si ritorni con la medicina dell'ascolto, perché non è che solamente mettendo due o tre paroline su web si avevano le risposte. Il medico può fare una diagnosi guardando in faccia una persona, guardando come cammina o percependo anche le cose che il paziente non dice. Quindi la cosa importante è proprio rivolgersi al proprio medico e lì sono sicuro che troverà tutte le risposte. In più, per chi utilizza il web, devo dire anche che la nostra federazione nazionale ha per risposto un sito, si chiama Dottore ma è vero che, dove qualsiasi cittadino può andare sul sito e fare le domande che ritiene opportune. Lì potrà capire effettivamente se le notizie che ha ricevuto siano corrette o meno. Grazie mille. Prego, grazie a voi.